ben ritrovati cari amici di Futsal Time per Fenice Venezia Mestre questa settimana finalmente possiamo dire torna a giocare la prima squadra della Gunari con noi uno dei protagonisti della rosa di mister pagana Massimiliano Molino ciao Max ciao Lorenzo ben ritrovato ben ritrovato a te Max e ben ritrovati a voi in campo ragazzi perché veramente sembra che non state giocando più la Fenice non gioca più Max sembra un altro campionato sembra torneo finale che decide la stagione praticamente perché è un mese che siamo fermi da competizioni ufficiali diciamo quindi è difficile staccare così ecco come state come vi siete allenati in queste settimane e soprattutto questa settimana che vi riporta alla partita come vi siete allenati queste settimane sono servite per recuperare qualche schiacciacco qualche magagna dal punto di vista fisico eh dopodiché abbiamo lavorato anche po' di tattica tecnica ovviamente come sempre eh e questa settimana ovviamente il focus è stata è stato fin dal lunedì eh sulla partita non che le settimane prima non lo fosse però questa settimana ha maggior ragione ecco quindi è proprio concentrazione massima e sappiamo che abbiamo due partite importantissime la prima inizia sabato dobbiamo avere la testa a sabato e sarà un tostissima perché mh con il Gubbio in casa da loro sarà veramente un campo molto difficile dalle dimensioni particolari perché è lungo ma stretto quindi ha le sue insidie ma all'andata dove avete vinto in casa che ricordo hai della squadra del Gubbio? Guarda all'andata eh io l'ho vissuta da casa purtroppo perché avevo il covid eh però le i ragazzi hanno hanno fatto una prova pontuosa secondo me eh ovviamente vederla nel computer di casa non è la stessa cosa che viverla comunque il discorso è che il Gubbio era privo di un di un bomber come come Piovesan e quindi magari il gioco è stato un po' influenzato da quello però sa di fatto che è una squadra tosta perché ha il secondo miglior attacco ehm all'andata ci siamo difesi con i denti e quindi quello quello ha fatto la differenza eh bisogna bisogna fare anche qualcosa in più a ritorno perché loro in teoria sono tutti e quindi eh sarà ancora più difficile. Sei d'accordo con me se dico che la gara di sabato si può riassumere con concetto di individualità forti in Gubbio, Piovesan, Difonso, Lopes Buta contro il concetto di squadra, la Fenice? Beh possiamo dire di sì dai eh comunque anche loro non è che giochino male anche di squadra perché comunque il quinto uomo lo sanno far bene eh è certo che a livello di personalità hanno delle belle personalità eh noi dobbiamo far venire fuori la vera squadra quindi se se dobbiamo giocarcela su quello dobbiamo dare il massimo anche a livello di squadra non solo come singoli perché anche come singoli eh noi non ci siamo mai esaltati ma non è non siamo secondi a nessuno. Max hai detto che sanno fare bene il quinto mi hai anticipato una domanda dopo dire che avete studiato bene l'avversario e quindi ti chiedo tu hai studiato il tuo collega molto bene Lopes Buta che per loro è anche un'arma in zona offensiva molto importante. Eh avevo visto qualche video di qualche highlight e quindi ho guardato principalmente quello dopo studiare un parolone però eh non vorrei sfigurare ecco dai. Assolutamente sì io ti chiedo che cosa significa pensare che il destino non sia del tutto nelle proprie mani? Come vi fa sentire? Eh ti dà un senso un po' di impotenza però cioè questo concetto c'è relativamente perché comunque sappiamo che qualcosina ce lo possiamo ancora giocare. Tutto dipende da queste due partite in primis quella di sabato perché in base anche ai risultati delle altre squadre eh dipenderanno le nostre sorti ovviamente certo ti fa sentire un po' impotente perché dici ok non dipende tutto da me anche se do il mille per mille e fatto tutto quello che devo fare è dura lo stesso perché non dipende più da solo da noi. Staremo a guardare ovviamente noi in primis dobbiamo dare il massimo quindi stare alla finestra non non deve essere un alibi per per non fare il nostro. Sono d'accordissimo con te e ti chiedo però secondo la tua opinione secondo quello che vi siete detti cosa è mancato fino ad oggi che magari in queste settimane avete lavorato per aggiustare perché cinque settimane sono quasi una preparazione nuova. Allora eh forse no proprio con il concetto di squadra non siamo riusciti a far risaltare le personalità che ci sono all'interno della squadra e quindi abbiamo lavorato un po' anche su questo in questo mese. Ovviamente non è così facile da dire a parole e poi sul campo riproporlo quindi noi abbiamo lavorato abbiamo lavorato bene l'obiettivo è cercare di far venire fuori quello che sappiamo veramente fare perché eh è un po' questa l'impressione che siamo sempre rimasti un po' eh espressi a metà come come qualità. Che effetto ti fa oggi essere la figura di riferimento non solo per i tuoi compagni di reparto dove comunque sei il più anziano tra virgolette del del parchetto portieri ma anche per i giovani della squadra in generale. È una grande responsabilità che negli ultimi anni sto sentendo sto sentendo sempre di più mia e tutto sommato mi piace anche questa parte di chioccia diciamo perché eh da una parte ci sono i portieri con cui mi alleno molto di più e quindi eh abbiamo modo di condividere eh molto di più il punto di vista sulle partite sulle azioni e quindi loro cerco bene o male di portare qualcosa anche a loro perché ovviamente non sono eh una divinità però cerco di appunto quello che vedo magari portarlo anche a loro e sopoglierlo quindi cerchiamo di lavorare anche insieme. Per quanto riguarda i compagni al di fuori dei portieri il trucco è che mi piacerebbe sempre essere un esempio e quindi trasmettere una giusta mentalità eh un giusto approccio alle partite agli allenamenti principalmente è questo dopo a livello di eh tecnica e tattica individuale non posso mh insegnare negli altri ruoli o comunque non è una cosa che mi piace fare. Sei d'accordo con me che io ti auguro altre mille stagioni però sei d'accordo con me che un domani la porta della Fenice è comunque in ottime mani a prescindere da quali mani siano però che siano ottime mani. Sono sono d'accordissimo con te Lorenzo perché eh negli anni la Fenice ha sempre lavorato bene con i giovani e anche le opportunità a livello nazionale fanno crescere molto giocatori e e credo che i portieri che stanno che che sono in prima squadra o comunque che si stanno approcciando eh abbiano avuto queste possibilità e quindi un una crescita ulteriore. Comunque anche l'anno scorso eh chi ha giocato ha sempre fatto bene e eh è stato pienamente oltre le aspettative quindi direi che la Fenice è tranquilla. Tu che hai detto hai quell'occhio un po' come dire da 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 grande del gruppo come hai visto i tuoi compagni dell'under tornare ad allenarsi dopo aver perso le final di Coppa Italia contro la squadra che poi ha vinto? Li hai visti più motivati più arrabbiati più con un po' di cazzimma in più? Sì sì di sicuro sì. Allora primi giorni ovviamente c'è 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 un po' di sconforto perché eh ci arriva una competizione così come una final eight dove si si carica nelle settimane precedenti c'è una una pressione psicologica importante quindi ci stanno due tre giorni un po' di scarico. Dopo sono tornati con la giusta mentalità giuste giusta mentalità soprattutto nel campionato che comunque non non deve essere dato per scontato e quindi li ho visti bene. Adesso spero che che riescano sempre di più a trasmettere questa mentalità anche in prima squadra e col tempo magari avere anche più spazio più opportunità e riuscire a dimostrare di più. Ti do un paio di dati statistici. Voi subite ventotto gol in tutti i primi tempi. Tra tutti i primi tempi della stagione avete subito ventotto gol. In tutti i secondi tempi della stagione quarantasei che sono un po' di più. Come te la spieghi? Potrebbe essere un ehm relativo a un calo della concentrazione perché riguardo la forma fisica non credo che cioè non abbiamo questi limiti secondo me nel senso che non siamo mai arrivati a eh fine partita stremati distrutti fisicamente ma è più mh un concetto mentale. Tante partite le vinci se arrivi ce lo diciamo sempre eh se arrivi pronto negli ultimi cinque minuti. Tante partite si decidono là. Dieci se se proprio vogliamo star larghi. Eh probabilmente ci è mancato proprio questo di perdere la concentrazione nei nei momenti clou della partita che si concentrano verso la fine. Te ne do un'altra. In tutto il campionato solo quindici gol fatti in casa venticinque fatti lontano dal palafranchetti e la statistica è un po' più preoccupante se si pensa che nel derby soltanto ne abbiate fatti cinque per esempio. Quindi se prendiamo tutte le altre sono dieci gol. Come è questa come te la spieghi? Eh questo su questo non ci ho mai ragionato sinceramente perché segniamo un po' di più fuori comunque eh di base abbiamo segnato poco quest'anno e quindi mh a prefine dal discorso in casa o fuori casa eh dobbiamo riuscire a essere più più concreti e quindi magari abbiamo avuto delle occasioni eh non le abbiamo concretizzate e dopo le abbiamo pagate nel senso che nel momento in cui i nostri avversari hanno avuto le loro occasioni ci hanno ci hanno puniti e quindi probabilmente da qua dopo deriva anche il discorso di eh cedere a livello psicologico negli ultimi minuti. Max stai un attimo con me perché voglio condividere una cosa con tutti coloro che guarderanno questa intervista che è un bel trailer perché la Fenice Venezia Mestre sarà protagonista della prossima pentata di storia di Fuzza che è il settimanale di Sky Sport dedicato al calcio a cinque e voglio farvi vedere il trailer. Va bene. Sono investire tanto sui giovani e quindi i ragazzi già in età under 19 devono avere la possibilità di stare dentro la prima spada di poter praticare questo sport ai massimi livelli. Il successo più bello è vedere tanti ragazzi che arrivano in fondo al percorso cioè che riescono a metterci con quella forza di volontà per poter arrivare in fondo. Questo dà tanta soddisfazione. Oltre a questo è vedere anche che questi ragazzi rimangono attaccati alla società anche dopo aver smesso di giocare con questa società. Rimanere sempre nel nostro ambito, avere un certo senso di appartenenza che è importante anche quello per noi perché comunque non tutti i ragazzi faranno soltanto i giocatori ma ci saranno quelli che diventeranno allenatori, dirigenti e tante altre cose. Quindi avere la possibilità di rimanere comunque nel nostro ambito per noi è importantissimo. E per ora ci stiamo riuscendo. Abbiamo visto storia di Futsal da domani dal 29. Lo potremo trovare su Sky in rotazione tutta la settimana. Ti chiedo che figura e che cosa significa per te Gigi Pagano? Il mister è una guida perché ha sempre una visione che risfugge a tutti noi e quindi riesce sempre a indirizzarci nella giusta direzione. In questi anni abbiamo avuto delle belle gioie e vogliamo continuare ad averne. e col mister abbiamo affrontato delle difficoltà e ne siamo usciti come squadra con il mister, con lo staff e quindi è un po' la nostra guida praticamente. Max io ti ringrazio tanto per essere stato con me e in bocca al lupo per la gara di Pubbio. Grazie a te Lorenzo. Grazie a te Lorenzo. Grazie a te Lorenzo.